A Torre del Greco sono state registrate 46 nuove guarigioni, di cui una dal regime ospedaliero nella giornata di ieri. Certificate anche 24 casi di positività al Covid-19, di cui uno ricoverato e di restanti 23 in isolamento domiciliare. Attestato inoltre il passaggio di tre cittadini positivi dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Comunicati i tre cittadini deceduti di classe 1925, 1933 e 1956. Muta dunque il bilancio di contagi da Covid-19 a Torre del Greco. 25 cittadini ricoverati, 287 posti in isolamento domiciliare, 2.595 guariti e 86 deceduti. A Cassella Mare di Stabia registrati 40 cittadini risultati positivi al Covid-19 nel periodo dal 19 al 21 gennaio 2021. 14 di essi presentano un sintomo lievi della malattia, mentre i restanti sono asintomatici. Accertati inoltre 28 guariti per lo stesso periodo. Tra il 23 dicembre 2020 ed il 21 gennaio 2021 sono 7 i cittadini venuti a mancare. Sale a 3.177 dunque il numero totale delle persone che hanno contratto il virus a Cassella Mare di Stabia, di cui 48 decedute. Nel periodo dall'1 al 19 gennaio 2021 sono stati registrati 1.837 tamponi effettuati ai cittadini di Portici, con un esito di 94 nuovi contagiati. La percentuale di positivi sul numero di tamponi si assesta quindi sul 5,1%. Sono 38 nuovi casi di contagio da Covid-19 certificati ieri a Torra Annunziata. Al contempo si registrano anche 28 guarigioni. Sono 365 cittadini attualmente positivi, 354 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Sale a 1.862 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torra Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.466 guarite e 31 decedute.